ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti oggi vi faccio vedere questo lavoro finalmente l'ho finito io mi beccate così quando finisco i lavori perché vedo altre designer altri canali che tutti i giorni postano un progetto nuovo anche progetti lunghi maglie coperte copertina insomma cose che obiettivamente ci vuole tempo a fare non so come facciano perché tutti i giorni riescono ad avere un progetto fatto e finito io non lo so non c'è non ce la faccio non so quanto siete veloci voi ma comunque un top di giorni soprattutto per progetti un pochettino più corposi mi ci vogliono quindi appunto complimenti a chi ci riesce a postare una maglia al giorno ma io no questo è un progetto che ho fatto con gli avanzi con riciclando gli avanzi di di filo in questo caso è filato acrilico ma si può usare qualunque cosa è un progetto double fast nel senso che si può usare in due modi io l'ho pensato in questo in due in due modi diversi uno è un centro tavola un centro un pochino particolare si chiama mandala è molto molto semplice da fare però il risultato è molto d'effetto si cambia colore si inseriscono i colori come si preferisce è tutto fatto è un cerchio piatto quindi comunque molto semplice da realizzare con anche con lo schema del cerchio perfetto che vi metto sotto nella descrizione del video e è tutto fatto a mezza maglia alta mezza maglia alta è uno dei punti che io amo di più perché è compatto che ma allo stesso tempo cresce veloce non troppo compatto insomma mi piace veramente un sacco sia da lavorare molto semplice molto veloce si fa senza dover troppo ragionare e però il risultato è veramente bello quindi mezza maglia alta tutto così e al cambio di colore semplicemente ho fatto queste puntate invece di puntare nella maglia nella catenella diciamo della maglia sottostante ho puntato nella catenella della maglia anche del giro ancora precedente ogni due ogni tre ogni tre punti c'è questo motivo che migliora il cambio colore lo rende più più particolare però appunto la lavorazione è veramente semplice adatta a tutti basta imparare a fare il cerchio piatto io ad esempio non uso in genere non uso la formula del cerchio perfetto e vado a occhio quindi faccio gli aumenti completamente a occhio ormai con l'esperienza si riesce a fare però seguendo anche il cerchio perfetto quello schemino che c'è nel link qua qui sotto si riesce perfettamente a fare se eventualmente vedete che il lavoro si restringe così a coppetta basta fare più aumenti qualche aumento in più ovviamente a distanze regolari se invece vedete che diventa ondulato il lavoro bisogna fare qualche aumento in meno può capitare che a seconda dell'uncinetto che usate a seconda del filato a seconda della vostra mano sia necessario fare qualche aggiustamento ma appunto basta imparare un pochettino il trucco e poi è semplicissimo senza neanche seguire più schemi per completare questo cerchio ho fatto il meraviglioso bordo a pallini e quindi a pompon che mi piace da matti e lo rende ancora più particolare pur essendo anche lui molto molto semplice ci sono due video miei ve li metto sempre qui nella descrizione del video uno è senza audio molto veloce per imparare a fare il bordo intendo molto veloce a me sembra più semplice però c'è chi senza audio non riesce a capire allora ho fatto un altro video che è quello subito prima di questo dove spiego a parole anche vi faccio vedere passo passo come si fa sempre il bordo a pompon che è appunto facilissimo non pensavo di farvelo vedere proprio perché appunto è un cerchio piatto a mezza maglia alta quindi non è che ci voglia ci voglia tanto da seguire invece vi volevo far vedere far capire la filosofia di questo di questo progetto uno un centro tavola che si può allargare quanto volete quindi in questo caso vi dico la misura che ho fatto io in questo caso io ho un tavolo rettangolare quindi mi basta un centro tavola centrale diciamo come lo vedete nella foto di apertura del video e la misura è 46 47 centimetri di diametro ovviamente se avete un tavolo rotondo un tavolo quadrato potete allargarlo quanto volete cambiare i colori quanto volete ad esempio per un tavolo rotondo è bellissimo fatto quasi alla grandezza del tavolo quindi senza farlo sbordare ma facendolo restare sul 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 cerchio sul sul piano del tavolo magari lasciando un pochino giusto qualche centimetro in meno in modo che faccia proprio questo effetto bellissimo con tanti tanti colori per un tavolo quadrato idem volendo si può fare anche quadrato chiaramente e per un tavolo rettangolare come il mio questa misura va bene perché io poi ci posso mettere un vaso dei vasetti dei fiori dei soprammobili qualunque cosa pure lasciarlo anche nudo perché è veramente d'effetto anche da solo e questo è il primo uso il secondo uso invece l'ho pensato per si trasforma completamente e diventa una trus una trus porta tutto cioè giro faccio un cordino o con la spighetta rumena o altri tipi di cordini ai cord quello con le dita che vi metto sempre il video qui sotto insomma oppure prendo un nastro adesso io prendo un nastro perché non al cordino fatto prendo un nastrino lo faccio passare ad esempio a questa altezza qua lo passo sotto un cordino l'ideale ma io adesso non ce l'avevo faccio passare come una culis qui sul mio cerchio ed esco a distanza regolare per farlo meglio prendo un ago il mio porta aghi quello del video di qualche tempo fa prendo semplicemente un ago di questi infilo il nastro così posso entrare uscire come voglio sono ok e faccio tutto il giro faccio tutto il giro ed ecco qua allora ho messo il mio cordino su tutto la circonferenza e adesso stringo tiro fuori il mio bordo e ho una trus dove mettere quello che voglio una trus decisamente particolare perché ha tutto il bordo così con questa questa specie di fiore dentro ci posso mettere quello che preferisco io l'avevo pensata per i trucchi siccome in questo periodo sono fissata con le beauty box e sto provando la beauty box a bb beauty box a bb io ho pensato di metterci qualche trucco qualche cosina da portarmi in giro e quindi metto dentro chiudo poi farò faccio il nodo e ho la mia la mia trus per i prodotti beauty è una trus decisamente particolare volendo ci si può mettere anche un una tracollina e farla diventare una borsetta da sera ovviamente con i colori giusti e però questa è l'idea trasformista di questo cerchio che ho chiamato mandala come dicevo semplice semplice si può trasformare in queste due idee poi ovviamente basta allargare qua si apre ed ecco che abbiamo i prodotti ma potrebbe essere anche un porta lavoro da uncinetto potrebbe essere quello che vogliamo ci possiamo mettere dentro qualunque cosa l'effetto è molto molto carino molto divertente con questo bordo pallucchioso e insomma è un progettino semplice per recuperare e riciclare gli avanzi e anche divertente basta non non credo ci sia altro da dire l'avete visto è ultra semplice se avete delle domande me le potete fare nei commenti sia qui che sul blog dove volete anche sulla pagina facebook se volete indicazioni per qualsiasi dubbio sono come sempre a disposizione ciao alla prossima ecco mi dimenticavo una cosa che mi avete chiesto vedendo questo l'inizio di questo progetto sia su facebook me l'avete chiesto sia su instagram allora parliamo della cucitura diciamo così dell'unione alla fine di ogni giro in realtà ma avete detto che non si vede che sembra perfetto è perfetto nel senso che comunque è fatto a mano quindi ci sta che ci sia una minima cucitura in effetti la cucitura c'è è qua non l'ho fatta l'ho fatta in questo modo perché ci sono dei sistemi per non farla vedere assolutamente però bisogna ogni giro tagliare il filo io non ho nessuna intenzione di fare questo lavoro perché perché comunque non mi sembra il caso e quindi comunque un un'aggiunta un pochino si vede però effettivamente non si vede tanto qui questo tipo di filato in effetti aiuta molto perché con altri filati si vede di più però poi vi faccio vedere esattamente come faccio a farla in questo modo che sia bella dritta e che si veda almeno possibile ve lo faccio vedere in un altro video però perché appunto qua il cerchio l'ho già finito ne comincio un altro e vediamo come chiudo il giro perché in questo caso ovviamente non si può lavorare a spirale ma bisogna lavorare chiudendo il giro ogni volta ok quindi insomma nel prossimo video vediamo questa cosa stavolta veramente ciao ci vediamo alla prossima ciao ciao